Luis Alberto è uno dei giocatori più talentuosi della Lazio, è quello che ti può fare la differenza nelle partite importanti. Però bisogna essere onesti e dire che le performance di Luis Alberto sono evidentemente in netto cano. Ciao a tutti da Vittorio, in questo video voglio parlare di Luis Alberto. Il numero 10, Bianco Celeste, è il giocatore che sa creare la magia, sa trasformare questa squadra con la sua qualità. Cosa che però non è successa spesso di recente. Il numero 10, Spagnolo della Lazio, dopo un ottimo inizio di stagione si è letteralmente perso. Ci sono numeri che veramente fanno paura, veramente spaventano e devono portare a una riflessione importante su Luis Alberto. Il giocatore che ha compiuto 31 anni e quindi non sta sicuramente ringiovenendo, nelle ultime partite, anzi più che delle ultime partite, ha avuto un comportamento, un andamento veramente negativo. E i numeri ce lo confermano. Pensate che l'ultimo gol segnato da Luis Alberto in tutte le competizioni, parliamo di Coppa Italia, Champions League, campionato, mettiamoci anche alla Supercoppa, l'ultimo gol segnato dallo Spagnolo risale al 21 ottobre scorso, ovvero Sassuolo-Lazio 2-0 per la Lazio. Con il gol di Luis Alberto, lo ricorderete tutti, su assist magistrale di Felipe Anderson, la colpo di tacco di Luis Alberto a superare consigli. Bene, dal 21 ottobre in poi Luis Alberto non ha più segnato e segnalo che siamo a gennaio, per cui non è passato un mese, sono passati tanti mesi. È vero, Luis Alberto ha avuto qualche acciacco, però dal 21 ottobre in poi Luis Alberto ha giocato 15 partite, fra Champions, campionato e direi Coppa Italia, anche se in Coppa Italia non ha giocato né contro Genoa né contro la Roma. E quindi, nelle ultime 15 partite, Luis Alberto non ha fatto neanche un gol. Adesso, Luis Alberto non è un centravanti, però è uno dei giocatori che nella Lazio segna di più. Ho fatto un paio di settimane fa un video segnalando come l'apporto in zona gol dei centrocampisti della Lazio quest'anno sia crollato, ma anche a venire con i savici e si vede, il centrocampista ad aver segnato più gol è Vesino, che poi è quello che sta giocando di meno. E questo è un dato importante, perché Luis Alberto era fondamentale, anzi è fondamentale in zona gol, ma i gol non bastano, perché Luis Alberto non solo non sta segnando più, ma non regala neanche più la sua magia, perché gli assist di Luis Alberto sono crollati. Luis Alberto ha fatto l'ultimo assist, ovviamente, nell'ultima partita di Serie A contro Lecce. Bene, era il 14 gennaio 2024. Prima di quella partita, l'ultimo assist di Luis Alberto risale addirittura all'8 ottobre del 2023. Lazio ad avanti 3 a 2. Dopo quella partita, quindi dopo 16 partite, Luis Alberto ha fatto un nuovo assist. Questi sono numeri che non vanno bene. Questi sono numeri da allarme rosso, perché se il tuo giocatore più talentuoso nelle ultime 15 partite ha fatto solo un assist e neanche un gol, capite che c'è qualcosa che non va e qualcosa di grave. Anche perché, come sottolineavamo prima, la Lazio nelle ultime partite ha, sì, giocato contro l'Inter, ha giocato il derby due volte, ma ha anche giocato contro il Verona, contro Cagliari, contro l'Empoli, contro il Lecce, dove Luis Alberto ha fatto un assist. Insomma, partite dove Luis Alberto doveva fare la differenza contro squadre piccole. Invece, Luis Alberto, non dico che non si è visto, ma sicuramente non ha fatto la differenza. E anche l'assist contro il Lecce, obiettivamente, non è niente di magico. Aveva fatto tutto, obiettivamente, Rovella, aveva servito Luis Alberto in area di rigore da solo, Luis Alberto è stato intelligente a passarla al Felipe Anderson che ha deciso la partita. Ecco, Luis Alberto non fa più magie dal 21 ottobre. E questo è un dato preoccupante. Non è una sorpresa che, secondo me, in Supercoppa ha giocato Vesino, però, secondo me, questi numeri preoccupano perché Luis Alberto, Cire Immobile, Romagnoli, sono l'asse portante di questa Lazio. I ruoli differenti, ovviamente, ma sono l'asse portante. E, secondo me, è vero che Amada non sta giocando bene, ma, visto questi numeri di Luis Alberto, io proverei a rilanciare il giapponese. Uno per dargli fiducia, due per anche mandare un messaggio a Luis Alberto, ovvero o ti svegli o noi dobbiamo cercare altre soluzioni. Ecco, secondo me, quest'estate bisogna fare una riflessione importante, non solo su Cire Immobile, ma anche su Luis Alberto. Due giocatori chiari di questa Lazio, due giocatori che, per motivi diversi, non stanno rendendo. Qualcuno dice infortuni, sì, ma non è che Luis Alberto è stato spesso fuori per infortunio, perché nelle ultime 21 partite ne ha saltate 5 di partite. E una contro la Salernitana, per squalifica, e poi 4 per infortunio. Anche se, ripeto, ha saltato Lazio-Genoa di Coppa Italia, che poteva saltare anche senza essere infortunato, Frosinone e Udinese sono le uniche due essenze reali per infortunio. Insomma, la Lazio ha bisogno di ritrovare il nuovo, il vecchio Luis Alberto, perché così, secondo me, la squadra farà difficoltà nei big match. Nelle partite più facili abbiamo visto che la Lazio è riuscita, in un modo o nell'altro, a portare a casa i tre punti. E questo è un dato importante per la squadra, ma preoccupante per Luis Alberto. La Lazio ha bisogno di ritrovare i suoi leader, come Luis Alberto e Cire Immobile, altrimenti io credo che il cammino per la Lazio, soprattutto nei big match, si farà molto complicato. E tu che ne dici di Luis Alberto? Deve giocare titolare o dobbiamo dare una chance a Kamada o Vecino? Sono due soluzioni differenti. Io preferirei Kamada perché la Lazio, secondo me, ha bisogno di maggior qualità a centrocampo, però Vecino, dall'altra parte, è l'unico centrocampista che si inserisce. Non è una sorpresa che Vecino è il nostro bomber fra i centrocampisti. Però, secondo me, Luis Alberto deve risolvere il suo problema. Io non credo che sia fisico, credo che sia mentale. Un blocco? Non lo so, però qualcosa sicuramente è successo e la Lazio ha bisogno di ritrovare il vecchio Luis Alberto o almeno provare a rilanciare Kamada, che, ripeto, non sta giocando benissimo, ma è l'unico giocatore rosa con caratteristiche o qualità simili a quelle di Luis Alberto. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivono e metti qua sotto. E se a te è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie. Grazie.